E' al mandorino un caro vivo, Beppo Grassi, di San Vito dei Normani, che ci è venuto a trovare questa sera. E vi lasciamo con questa milonga che abbiamo riarrangiato dietro al palco, giusto con una prima via, per partenza di mandorino. Grazie e buona maturazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.